Visto qualche anticipazione nel corso del nostro avvio prefartita, con lo studio con la moneta per tirare le sovettino di tutti i nostri impiati schierati del 2 e 1, per chi? Ah, quanto finisci, amore? Ah, chi tipo di sfettino di tutti i nostri impiati schierati del 2 e 1, per chi? Ah, chi tipo di sfettino di tutti i nostri impiati schierati del 2 e 1, per chi? Allora, Kino, oggi siamo da soli, eh, perché la mamma ha da fare e facciamo una giornata tra maschi, quindi ti porto a conoscere qualche bella carlina a Parco Ravizza. Facciamo una giornata tra uomini. Guarda, però un po' ti giro le pentole. Che bella carlina, eh? È pronto lo stallone? Amore, sei diventata la star del web o per i tuoi pronostici? Eh, amore. Quindi vorrebbero sapere quando arrivano gli altri. Ho superpoteri, però non è che li posso regalare così facilmente. Una ogni tanto. Per far fare i soldi agli altri, quindi... Una ogni tanto. Ogni tanto. Ogni tanto. Grazie a tutti.